Eccoci, seconda parte di Trieste in diretta, siamo in compagnia del professor Carlo Rizzuto che attualmente è presidente dell'Assemblea Generale dell'Infrastruttura di Ricerca, CERIC so che è un acronimo abbastanza complesso, come tutti gli acronimi Infrastruttura di Ricerca Centro-Europea, si fa prima Si fa prima dirlo così, certo Se ricordate, credo un mesetto fa circa, noi abbiamo avuto ospite una collaboratrice una del professore dell'Argentina e quindi abbiamo un po' capito di che cosa si tratta però insomma, siccome è una di quelle realtà che lavorano a Trieste e come sempre noi magari conosciamo poco determinate cose che abbiamo la fortuna di avere intorno Giova un pochettino tornare a parlarne Intanto, che si potrebbe anche incominciare dicendo una cosa si parla molto spesso di scienza, di ricerca e si trascura, non so poi se neanche questo è il termine però si pone poco l'accento sulle possibilità io non vorrei usare il termine imprenditoriali ma comunque sulle possibilità che il mondo della ricerca che certa ricerca offre proprio direttamente alle aziende Beh, allora abbiamo due modi in cui la ricerca di questo tipo può interagire con le aziende uno è quello di interagire ad esempio con aziende che hanno bisogno di migliorare i prodotti o i servizi oppure i loro processi e ad esempio da questo punto di vista diciamo a Genova ma anche qui a Trieste le persone che io ho addestrato ce ne sono parecchie nell'industria se io prendo grosso modo la produzione di posti di lavoro nuovi su tecnologie nuove generate a Genova saremmo sui 2000 posti di lavoro sostanzialmente a Genova si costruiscono Genova e la Spezia si costruiscono magneti superconduttori per la risonanza magnetica nucleare per il CERN, per la fusione nucleare oppure ci sono i circuiti e le componentistiche di potenza quella che viene usata ad esempio sulle locomotive che viene prodotta dall'ansaldo energia quindi questi sono prodotti che praticamente sono nati dal mio laboratorio a suo tempo l'altro modo è invece quello di generare spin off cioè generare delle ditte che assorbono un ricercatore o un gruppo di ricercatori che hanno una buona idea e diventano loro stesse dell'industria qui a Basovizza ma anche a Sesana in Slovenia abbiamo una ditta che produce ondulatori magnetici cioè dei grossi dei grossi dei grossi dei sistemi diciamo che servono a generare luce da fasci elettronici intensi e questa ditta sta esportando in tutto il mondo praticamente ha esportato in India ha esportato negli Stati Uniti ha esportato in Canada e ce l'abbiamo e ce l'abbiamo qua qua ce l'abbiamo qua una zona di macchina in pratica sì praticamente io non vorrei essere irriverente e fare un collegamento con quanto dicevamo prima parlando di sport eccetera però è anche vero questo cioè questo che lei mi sta dicendo questo spin off ha sede a Basovizza e a Sesana quindi al di qua e al di là del confine ha senso parlare più di confine ha senso parlare ancora di confine sotto certi aspetti sì sotto altri no probabilmente dal punto di vista scientifico no dal punto di vista scientifico decisamente non si può parlare di confine anzi non si deve parlare di confine perché o la scienza è competitiva a livello mondiale oppure non è sì l'ho capito se si fa ricerca deve essere competitiva a livello mondiale non ha avuto mai senso parlare di confini? praticamente no ci si è provato nel passato ma io ad esempio negli anni 70 collaboravo con con la Cina con l'Unione Sovietica con gli Stati Uniti e non avevo nessuno che interferisse con le mie collaborazioni quindi nonostante si fosse ancora nonostante fossero ancora cioè il 70 era ancora guerra fredda per certi adesso bisognerebbe capire cosa hanno intenzione di combinare adesso bisogna capire come va a finire ad esempio è molto peggio la Russia di adesso è molto peggio di quella che era l'Unione Sovietica di allora perché allora c'era come tradizione nell'est europeo l'Accademia delle Scienze Sovietica era molto indipendente adesso l'Accademia delle Scienze russa è stata messa sotto il controllo di Putin quindi è cambiato è cambiato l'atteggiamento ma mi dicevo mio collega che vive a Londra che fa il mio stesso mestiere che c'è in atto una guerra fredda soprattutto fra Russia e Gran Bretagna di cui noi non abbiamo non abbiamo contezza ma che è strisciante e per certi aspetti quindi ancora più pericolose beh e sostanzialmente adesso che lavoro soprattutto nel centro-est europeo abbiamo delle reazioni antirusse molto pesanti molto dure proprio perché c'è questa interferenza del governo russo nella scienza russa che si ripercuote con risultati diciamo di rifiuto se si vuole in un certo numero di posti la situazione è anche abbastanza strana perché da un altro punto di vista in questo momento i tedeschi tendono a reagire fin troppo contro il Brexit quindi contro la scienza inglese si arriva in una riunione internazionale ho avuto ho dovuto zittire i tedeschi perché mi dicevano gli inglesi che non devono parlare perché adesso hanno il Brexit ho mai sentito una cosa di questo genere quindi ecco in fin dei conti siamo passati quasi automaticamente ad un altro argomento cioè quello dell'internazionalizzazione della dimensione internazionale della ricerca il ruolo dell'Italia in questo in questo contesto soprattutto anche in un contesto di riferimento che è quello del centro-est Europa quello fondamentalmente più vicino a noi per certi versi e dunque il ruolo dell'Italia si riesce a costruire un ruolo molto ben apprezzato a livello scientifico diciamo qualche volta anche in collaborazione con le autorità governative italiane che però è una collaborazione che ha un po' sì un po' no diciamo non ha molta continuità ci apprezzano molto spesso chiedono all'Italia di farsi avanti per evitare la strapotenza tedesca quindi già cominciare dagli austriaci preferiscono lavorare con gli italiani che non essere diciamo invasi di nuovo invasi di nuovo o lanschluss di nuovo da parte tedesca i paesi del centro-est Europa ci apprezzano moltissimo anche perché stiamo esportando molti dei nostri ragazzi in quella zona dal momento che dall'Italia in Italia non si lavora molto bene a questo punto abbiamo molti molti allievi molti validi ricercatori che si spostano in questi paesi perché offrono anche più opportunità questo è un po' una sorta di quasi di punctum dolens quando si parla di ricerca quando si parla di ricerca nel nostro paese quando la si confronta con quello che succede con quello che succede altrove ciò non di meno la possibilità diciamo così io immagino l'eventualità per uno studioso eccetera di guardare anche all'estero ancorché sotto certi aspetti per quel che riguarda il nostro paese imposta da una realtà che certamente non fa ponti d'oro per trattenere determinate eccellenze però l'idea di guardare di guardare fuori eccetera dovrebbe a parte che immagino che adesso sia un dato diciamo si parte con questo però dovrebbe essere vista anche come qualche cosa di nuovo e di stimolante non si capisce mai dove finisce allora la ricerca è sempre internazionale se lei prende Alessandro Volta la comunicazione sulla Pila che lui aveva sviluppato lui l'ha fatta prima a Parigi poi a Londra e poi forse anche in Italia dopo quindi sostanzialmente già allora il primo c'è quello in fuga già allora diciamo c'erano c'era quantomeno un movimento di tipo europeo per non parlare diciamo di tanti altri scienziati quindi il fatto che uno si confronti con la scienza di tipo internazionale è obbligatorio non si può fare una scienza nazionale il problema qual è è che noi abbiamo molti più italiani che vanno verso fuori che non stranieri che vengono verso di noi la ragione è perché il sistema soprattutto il sistema universitario italiano è molto conservativo cioè molto si autoriproduce si riproduce molto al suo interno quindi questo è uno degli elementi un po' difficili che noi abbiamo da affrontare quindi c'è una difficoltà di trattenere e una difficoltà di attrarre soprattutto è la difficoltà di attrarre di attrarre perché anzi si corre il rischio poi di trattenere senza offrire le condizioni buone per lavorare per cui possono esserci i giovani potenzialmente molto in gamba che poi non finiscono per non produrre quello che potrebbero produrre molti italiani appena vanno fuori incominciano a diventare estremamente noti e produttivi il problema è riuscire a essere produttivi tornando indietro nel mio caso sono riuscito ho avuto la fortuna di essere in un momento in cui la scienza italiana stava crescendo rapidamente gli anni 60 70 però dagli anni 70 alla metà degli anni 70 in poi il sistema si è bloccato probabilmente come quello che diceva lei anche perché generazionalmente si è arrivati a i vecchi occupano i posti e non fanno più venire i giovani quando noi parliamo per esempio della ricerca e delle diciamo così delle ricadute sociali ed anche economiche se vogliamo che tipo di valori dobbiamo tenere in considerazione cioè dei valori meramente economici o qualche cosa che va oltre questo tipo di considerazione che pur immagino non siano senza importanza beh dunque la scienza è la conoscenza questo è un discorso che devo fare continuamente diciamo soprattutto a livello politico europeo la scienza la conoscenza in generale ha una proprietà additiva molto particolare perché se io le dico una cosa che io so lei la sa e io non è che la perdo la sappiamo tutte e due e se lei mi dice un'altra cosa a questo punto tutte e due abbiamo due cose in più quindi la conoscenza non ha un valore non è una entità commerciabile sì certo sì è un'entità che una volta che uno ha trasferito la mantiene e la trasferisce quindi si moltiplica quindi a questo punto questo è un effetto se vogliamo di tipo generale non economico è una proprietà non di tipo economico quindi non può essere diciamo scambiata come la moneta la cosa importante è creare le condizioni per cui conoscenze oppure competenze che si stanno sviluppando sulla base della ricerca anche di ricerca immediatamente completamente inutile diventino economicamente interessanti qui ho un ottimo esempio che uso di solito con 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 i politici l'ultima volta l'ho usato nel Parlamento Europeo e le abbazie le 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 grandi biblioteche abbazie benedettine in cui avevamo gli amanuensi che copiavano libri che è una cosa tipica se uno andasse a chiedere un finanziamento a una banca per mettere su un'abbazia non è non non troverebbero qual è il il ritorno però per tenere questi amanuensi tranquilli e felici bisogna dargli di tanto in tanto della birra degli amari bisognava curarli e quindi intorno a queste abbazie si sono sviluppate degli ambienti chiamiamoli commerciali o industriali che durano ancora adesso quindi sono delle industrie messe su nel medioevo così buone che vanno avanti ancora adesso quindi a questo punto se uno vuole vedere il rapporto diretto tra quello che fa la scienza e quella che è l'economia non lo trova però se guarda nella se guarda nella prospettiva riesce a trovare laddove sempre più spesso si io molte volte intervistando persone che lavorano soprattutto in area di ricerca ho scoperto che certamente i numeri sono ancora sono enormi però parecchie persone che lavorano in area di ricerca provengono da facoltà umanistiche cioè a dire c'è bisogno è logico c'è bisogno anche di comunicare al meglio quello che si realizza quello che si studia quello che si viene a quello che si viene a conoscere e tendenzialmente nessuno meglio di chi arriva con un bagaglio con un bagaglio umanistico riesce in questo in questo senso è una è una novità diciamo così dell'ultimo dell'ultimo periodo che colpisce noi che poco conosciamo di queste cose che magari colpisce favorevolmente noi che da quell'ambiente veniamo oppure è qualche cosa che c'è che c'è sempre stata ma della quale meno male per una ragione o per l'altra si sapeva poco ma dunque l'Italia è molto particolare in Europa diciamo se uno prende la Germania ma anche l'Inghilterra i movimenti ambientalisti tedeschi inglesi anglosassoni hanno indotto un forte riavvicinamento tra le scienze umane e le scienze naturali proprio perché la possibilità di permettere che una nuova tecnologia o una nuova costruzione è accettata dalla popolazione ha fatto capire che bisogna presentare tutto in una maniera diversa l'Italia per qualche ragione non è mai probabilmente per un problema di cultura all'interno del sistema universitario più che non scolastico in cui noi abbiamo i raggruppamenti disciplinari separati è curioso perché non abbiamo la miscela tra le facoltà mi perdoni se la disturbo se la interrompo è come se noi italiani che abbiamo una fantasia che ci dà una mano in parecchie circostanze non riusciamo non fossimo riusciti ancora ad utilizzare questa fantasia in altre cose in cui sarebbe stata più utile basta solo fare la prova riuscire a creare degli ambienti in cui questa miscela si crea questo tipicamente purtroppo avviene al di fuori dell'ambiente universitario ad esempio il consiglio nazionale ricerche è un posto in cui sono nate molte nuove discipline miste io ho un'esperienza particolare che è abbastanza divertente negli anni 60 a Genova è stata costituita è stata fondata è stata fatta partire la biofisica italiana e per farla partire sono stati chiamati all'interno del dipartimento quello che si chiamava istituto di fisica fisiologi filosofi ingegneri fisici e chimici in quello stesso periodo è stato inventato il laser quello che adesso tutti sappiamo allora era fatto con delle tubature di vetro era un laser a gas sa chi è che ha fatto il primo laser a gas in Italia? il filosofo di quel gruppo ah ecco immaginavo che c'era quindi a questo punto questo è uno delle cioè basta solo creare l'ambiente giusto a questo punto poi è la curiosità è la curiosità è la curiosità che fa funzionare le cose laddove professore quando noi parliamo adesso quando parliamo di scienza di scienza e di ricerca in generale credo che soprattutto le nuove generazioni abbiano la possibilità di informarsi su fonti certamente molto molto più ampie di quelle che potevamo avere a disposizione a disposizione noi c'è internet che là però bisogna andare sempre con con i piedi di piombo e ci sono anche tantissime tantissimi canali tematici televisivi anche là per dire la verità bisogna andare un pochettino con i piedi di piombo perché trovi nello stesso canale il documentario scientifico di grande valore di grande professionalità eccetera poi magari mezz'ora due ore dopo trovi una castroneria non indifferente eccetera voglio dire come come ci si deve muovere all'interno di questa offerta che certamente è vastissima e per quanto riguarda il numero delle proposte e soprattutto anche per quanto riguarda proprio le fonti stesse beh qui bisogna appunto stare attenti ai ciarlatani sostanzialmente perché questo è quello che può succedere facilmente ad esempio la questione delle vaccinate quello è una roba assolutamente vergognosa però attenzione ci sono a volte dei ciarlatani che arrivano e che sono professori universitari purtroppo e magari anche di famosi diciamo il ciarlatonesimo è difficile da controllare direi che in questi casi bisogna riuscire a dare spirito critico questo è una delle prime cose che la scuola deve riuscire a insegnare cioè andare a fare delle verifiche cercare di vedere ad esempio su internet oppure su sulle trasmissioni particolari andare poi a verificare delle fonti cioè capire che poi è facilissimo che poi è abbastanza facile perché come è facile capitare sulla trasmissione sbagliata è anche abbastanza facile sgamarla sgamarla diciamo quindi direi che il problema è veramente selezionare le informazioni saper selezionare le informazioni e saperla guardare in maniera critica e poi secondo me è compito anche di un certo giornalismo non veicolare con un'estrema facilità determinate cose insomma possono essere fatti dei danni incalcolabili la cosa interessante è quanto adesso i media riescono a saturare l'ambiente lo vediamo nelle elezioni americane cioè se l'esposizione mediatica permettesse di selezionare il miglior candidato abbiamo una dimostrazione che forse non è esattamente così nessuno dei due sarebbe dov'è probabilmente se fosse una cosa seria all'altro sì ma ad esempio diciamo questo eccesso di volontà da parte di molti politici di avere la rilevanza mediatica Cameron col suo Brexit ci ha rimesso la pelle diciamo ci ha rimesso le penne nel senso che voleva la rilevanza mediatica ha sbagliato la dose ha sbagliato sì sì ce l'ha avuta per dire però in quanto britannico se ne è andato alla critica noi sono più abituati a cambiare troveremo Cameron che fa conferenze che guadagna un sacco di soldi io sono più preoccupato del fatto che dall'altra che oltre manica nel senso dalla parte nostra abbia rialzato la testa Sarkozy che è quello a cui dobbiamo il caos libico ma insomma questi sono affari dei francesi che insomma risolveranno loro beh ma per i francesi i francesi sono sono molto simili a noi per certi aspetti non vorrei essere ascoltato da un francese ok ma io ci vado tra un mese per cui un'ultima c'è anche la battuta una battuta terrificante in realtà con gli amici francesi ci abbiamo riso sopra parecchio i francesi sono sempre abbastanza incavolati ma sono sempre un po' tesi perché in realtà loro credono di essere tedeschi ma scoprono di essere italiani e quindi non è male non è male questo li mette li mette in crisi un'ultima domanda intanto professore la ringrazio anche abbiamo un po' divagato ma è sempre è più è più piacevole quando quando si chiacchiera insomma tornando al lavoro al lavoro del Ceriche il potenziale di enti come il Ceriche in Europa alla luce anche di questa Europa perché poi dovremmo anche interrogarci credo tra un po' sull'Europa con cui abbiamo a che fare dunque questi enti io sono stato coinvolto nel mettere sulla politica europea su queste cosiddette infrastrutture di ricerca che sono le abbazie benedettine i miei collaboratori quando sentono che io vado in quella direzione e cominciano a guardare in giro questi questi qui sono in realtà delle entità o dei luoghi in cui noi cerchiamo di attrarre i migliori cervelli al mondo per poter catturare le idee migliori cioè questo ad esempio Ceriche cos'è è una rete come una rete da pesca in cui abbiamo preso una serie di laboratori l'abbiamo messi insieme e l'abbiamo aperti ai migliori utenti a livello internazionale questi utenti vengono li usano senza pagare il biglietto d'ingresso però pagano lasciando le idee in condivisione quindi a questo punto con questa rete stiamo cercando di pescare questo stesso tipo di approccio lo abbiamo utilizzato in Europa su una quarantina di diverse entità anche nelle scienze umane per inciso e questo ci sta portando a negli incontri che abbiamo ad esempio con gli americani ad avere gli americani che sono completamente spiazzati perché dato che l'Europa è molto ricca di iniziative mettendole insieme stiamo battendo gli americani ma di alcune lunghezze nella capacità di attrarre i migliori cervelli questo è poi lo scopo di Tutorine questo è veramente anche una cosa molto importante per dire la verità e la dice lunga anche un pochettino su come è ridotta l'America è brutto dirla così perché c'è una crisi ecco insomma anche da questo punto di vista una delle debolezze dell'Europa è di non avere il governo federale che ad esempio finanzi con grandi somme la ricerca però una delle forze dell'Europa è di non avere il governo federale che poi indirizza le cose magari nella direzione sbagliata quindi a questo punto uno deve trovare l'equilibrio tra due forze diverse lei mi fa citare una battuta di Spencer Tracy in un vecchio film che si chiamava La Costola di Adamo quando diceva vive la differenza c'è una piccola differenza ma sottolineiamo la differenza era abbastanza interessante professore grazie per essere stato con noi professor Carlo Rizzuto il presidente dell'assemblea generale dell'infrastruttura di ricerca Cerik Eric e direttore generale di Eli DC DC significa? non è quella che lei pensa non l'avrei pensato qui siamo in un seminario non l'avrei pensato non l'avrei pensato però delivery consortium consorzio di produzione grazie ancora e buon lavoro grazie a lei dopo la pubblicità CISL informa parliamo di questioni direttamente collegate al mondo dei consumi ok grazie